Facciamo una cosa come dirighi, aspetta. Che cosa? Il corno vero e il corno apposta. Vai! Allora, per fare la pace, Francesco, il corno vero è quello che ti fai a la mia moglie, però c'è una cosa l'uomo quando si andrà a casa immediatamente non lo attrae qualcuno o come si fa la rete, fa sesso e non amore una mamma, ci fa sesso e basta mentre invece la donna quando paga un uomo ci mette proprio fedente un pizzico di cuore e la stanno i corno. Si? Eh. Cioè, se la donna mette l'amore sono corno? Eh, certamente. Pure se fai i bambini? No, ce la sapendo. Allora è meglio che una fai i bambini, così non so corno. Si fa spontaneamente, semplicemente. Eh, un bambino semplice, non so corno. No, io un bambino non volevo dirci la verità. Eh vabbè, allora facciamo caso. Tu hai detto che se una scende di casa e fa l'amore con uno sono corna. Perché che adesso lo sessi che fa l'amore? E non so corno. E non so corno. Perciò si dice in napoletano che corno è vero, so corno è vero. E allora se una donna fa un bambino sono corno perché è amore. No, non può essere mai amore con un bambino. Ah, allora se uno ce ne fa un bambino non so corno. No. Ah, non boh. Era prezioso solamente. Ah, va boh boh. Allora a tutte le donne, vai dice a tutte le donne, non fate l'amore, fate i bambini che non sono corno. No. Ah, fate i bambini perché non sono corno. Ok, ok.